I carabinieri della compagnia di Tauria Nova e del reparto carabinieri forestali del Parco Nazionale da Spromonte hanno segnalato all'autorità giudiziaria di Palmi tre allevatori di bovini accusati di aver introdotto e abbandonato animali in fondo pubblico nonché per pascolo abusivo e malgoverno di animali. In particolare i militari della stazione di Molocchio assieme ai colleghi forestali della stazione carabinieri Parco di San Giorgio Morgeto domenica scorsa hanno svolto un mirato servizio in località Trepitò al fine di individuare i proprietari di un branco di animali che era stato segnalato a pascolare nelle strade. Nel corso del servizio sono state notate tre mandre distinte di circa 18 capi di bovini che liberamente e senza governo pascolavano lungo la strada provinciale 50 e all'interno delle vie del villaggio Trepitò causando un potenziale pericolo per la circolazione stradale. Gli accertamenti svolti sugli animali censiti in banca dati hanno consentito di attribuire la proprietà a tre distinte aziende di allevamento i cui proprietari dovranno rispondere di introduzione di animali in fondo pubblico e pascolo abusivo. Gli stessi saranno sanzionati amministrativamente per malgoverno di animali. L'intervento dei militari dell'arma rientra nella più ampia azione di contrasto al fenomeno dei cosiddetti bovini vaganti svolta dai carabinieri anche mediante la costante partecipazione dell'attività della Task Force Interforce coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria istituita per contrastare il fenomeno diffuso soprattutto nel territorio della Piana di Gioia Tauro.